Comodo è lui perché fa il boss, eh già, che riportiamo i capucciati, che riportiamo, meglio, io sono più fottuto di tutti, tutto, amore, famiglia, affari, eh, guarda qua, l'enciclopedia per i famigli, ma l'hai ben capito, mi hai detto che non abbiamo più bisogno di lei, perché non la fai il tuo, eh, e voi? Sì, sono molto stanco, non dormo più, però, ho capito, siamo una banda, sì, ma ne buffoni, e va bene, lo concludiamo e gli diciamo, signor Rita, che non c'è stato, ora le nostre mogli, purtroppo non vogliono più, vediamoci sotto e finiamola qui, eh no, eh no, non in questo modo, abbiamo cominciato e dobbiamo pigliare un bel mezzo. Quante copie da voi? Basta questa casca, ci mi invito stella notte, ma mi viene un capolavoro, il più sanguinoso scontro fra gli anni dopo la notte di San Valentino, noi scominati, i boss, morto, i martiglieri, padroni del campo e la polizia sulle nostre tracce. Ma come mai sul mio donato c'è? Perché queste omedizioni saranno di... Ma mi saranno qua, andai mi dicono, ma se ho venuto potere, dovete sparire. Ma perché se sono il mio ritardo quando non sono per l'ultima ruota del carro? Avrete commesso qualche incidente, da noi lì. Basta, guarda, ci beccano, siamo tutti fregati, o sparite o vi ferite. Se non volete domani, sono gli stuoni, sono i prodotti. Datevi qualcosa a voi, perché ne vieni di mio. No, è impossibile, quelle banca l'oppe scoprono le tere, perché sono in percogliate. Avete una sorella? Eh. Raggiungitela. E le giocherateci. Ma, ma dove non lo fanno? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.